Si è aperta l'asta online di Air Berlin dopo la chiusura definitiva della compagnia aerea tedesca a fine ottobre. Coperte, parti, turbine, stoviglie della business class, carrelli e molto altro. Dopo la pubblicazione del primo comunicato abbiamo ricevuto 37.000 nuove registrazioni in un solo giorno. È enorme e di solito non succede una cosa del genere nel settore industriale, spiega il responsabile della casa d'aste. Oltre mille oggetti tra i quali i famosi cuoricini di cioccolato sono all'aste e il ricavato della vendita andrà ai creditori dell'ormai scomparsa compagnia aerea.